Nel cuore del Queens, New York, la vita di Maya Lopez ha seguito un percorso straordinario che ha intrecciato tragedia, determinazione e trionfo. Nata in una situazione complessa, con una madre messicana deceduta in tenera età e un padre, noto come l'assassino della mafia Willie Cavallo Pazzo Lincoln, Maya ha affrontato sfide sin dalla sua infanzia. La sua vita prese una svolta inaspettata quando, a seguito della morte di Cavallo Pazzo per mano del temibile Kingpin, la piccola Maya fu affidata a quest'ultimo. Come un atto di promessa, Kingpin assicurò di crescere Maya come sua figlia, portandola in un esclusivo centro per non udenti. Qui, la giovane Maya rivelò un talento straordinario, la capacità di imitare con precisione assoluta qualsiasi azione vedesse compiere anche solo una volta. Questo talento eccezionale spinse Kingpin a farla frequentare le migliori scuole per in fan prodige, permettendo a Maya di sviluppare non solo la sua intelligenza acuta ma anche una sensibilità artistica profonda e un fascino unico. Da qui in poi, la vita di Maya prese una piega sorprendente. Crescendo, ella diventò una donna di rara intelligenza, dotata di un magnetismo irresistibile e una profonda inclinazione per l'arte. Le sue performance artistiche, che uniscono teatro, danza e arte concettuale, hanno attirato l'attenzione del mondo intero, guadagnandole una fama senza precedenti. Tuttavia, dietro il suo successo risiede un enigma oscuro. Anni dopo, adulta e già affermata nel mondo dell'arte, Maya decise di scoprire la verità sulla morte di suo padre biologico. Si rivolse a Kingpin per avere delle risposte, e fu in quel momento che la menzogna si intrecciò alla sua storia. Kingpin le attribuì la morte di cavallo pazzo ad un'altra figura oscura, Devil. La storia di Maya Lopez è un turbine di eventi straordinari. Una saga di inganni, amore e ricerca interiore che l'ha portata da New York, attraverso il confronto con il proprio passato, fino ai confini lontani del Giappone. Dopo un incontro fatale con Matt Murdock, la vita di Maya prese una svolta inaspettata. Allenandosi senza sosta e adottando l'alter ego di Echo, si immerse nel mondo degli scontri tra Devil e Bullseye, imparando le loro mosse con precisione chirurgica. Ma il destino aveva in serbo per lei un colpo fatale. Durante uno scontro, smascherò Devil solo per scoprire che dietro la maschera si nascondeva l'uomo che amava Matt Murdock. Il tradimento la spinse ad affrontare il suo mentore e patrigno, Kingpin, accecandolo con un colpo di pistola, scatenando una serie di eventi che avrebbero minato il suo impero criminale. Sconvolta dall'inganno e dalla delusione, Maya abbandonò gli Stati Uniti intraprendendo un viaggio alla ricerca di pace interiore. Il suo ritorno avvenne solo dopo un lungo periodo, trovando Matt Murdock ormai sposato e il suo ex mentore, Kingpin, ancora considerandola come una figlia. In un tentativo di ritrovare equilibrio, Maya si immerse nelle antiche tradizioni dei suoi antenati nativi, sottoponendosi al rito di passaggio a Mbekeia. Questo rituale le ha restituito la serenità e l'equilibrio tanto cercati, permettendole di riconnettersi con la sua essenza. Durante questo percorso, un incontro significativo avvenne con Wolverine, una figura che la guidò nel misticismo e nella cultura giapponese. Quest'incontro le aprì le porte per una breve permanenza in Giappone, un luogo che ben presto iniziò a considerare come una seconda casa. Maya Lopez, meglio conosciuta come Echo, ha attraversato un cammino eroico densamente intrecciato di misteri, lotte e alleanze che hanno modellato la sua storia nel mondo dei supereroi. La sua entrata nei nuovi Vendicatori, su suggerimento di Devil a Capitan America, segnò un punto cruciale nella sua vita supereroica. Tuttavia, invece di assumere l'identità di Echo, si celò dietro l'alter ego di Ronin, indossando un'armatura che nascondeva la sua identità di genere. Questo ha generato speculazioni e interrogativi tra i fan, alimentando un mistero che è stato infine svelato solo a pochi e al pubblico. Durante la guerra civile dei superumani, Maya si trovava in una missione in Giappone. impegnata a monitorare Silver Samurai e a contrastare Electra Nachos nel suo tentativo di riconquistare il controllo della mano. Il suo coinvolgimento in questa trama implicata la vide manipolata e resuscitata dalla mano stessa, portandola ad attaccare persino i suoi stessi compagni dei nuovi Vendicatori. Il suo ritorno negli Stati Uniti ha segnato una nuova fase della sua vita eroica. Echo ha ripreso il suo ruolo nei nuovi Vendicatori, mentre il mantello di Ronin è passato a Clint, Barton, mentre lei stessa ha riacquisito l'identità di Echo. Inoltre, un legame più profondo è emerso con Barton, culminando in una notte di reciproca attrazione fisica. Echo ha affrontato diverse minacce con il suo team di eroi, da un'invasione di simbionti a battaglie contro entità oscure come il Demon and Spire e il sindacato del crimine di Hood. La sua abilità straordinaria di imitare qualsiasi azione le ha garantito un posto di rilievo in ogni scontro. Il viaggio eroico di Echo ha toccato nuovi apici quando, insieme ai nuovi Vendicatori, si è trovata coinvolta in un conflitto epico nella Terra Selvaggia, inseguita da misteri alieni e tradimenti che avrebbero scosso il suo mondo. Il loro destino si intrecciò con la scoperta di un'astronave Skrull nella Terra Selvaggia. Un evento che avrebbe portato Echo e i suoi compagni a fronteggiare minacce ben più grandi di quanto avessero immaginato. Ignari che i loro compagni imprigionati fossero in realtà impostori Skrull, i nuovi Vendicatori si trovarono a combattere contro un nemico astuto e insidioso. La rottura del gruppo avvenne con l'arrivo di un dinosauro gigante, separando Echo dal resto del team e portandola a un incontro fatale con la donna Ragno, la regina Skrull orchestratrice dell'invasione. Sotto l'effetto di un veleno paralizzante, Echo fu brutalmente gettata in un tronco d'albero, ma la sua forza interiore non fu spezzata. Soccorrendola, i suoi compagni videro in Echo una risorsa fondamentale nella lotta contro gli Skrull. La sua determinazione a non lasciarsi abbattere si trasformò in un contributo significativo per sconfiggere gli impostori alieni e rispingere l'armata di Super Squad inviata per invadere New York. Tuttavia, le profonde cicatrici lasciate da questa esperienza segnarono Echo profondamente. Il peso delle tradimenti e degli inganni subiti la spinse a prendere una decisione drastica, abbandonare il supergruppo e ritirarsi dal radar per un periodo di tempo indefinito. La vita di Maya Lopez, conosciuta come Echo, ha sempre risuonato di avventure, misteri e lotte interiori. Dopo anni di assenza dai riflettori della comunità supereroistica, il suo ritorno fu accompagnato da un'offerta che rivelò profonde ferite nell'anima di questa eroina solitaria. Richiesta da Luke Cage e Jessica Jones di fare da babysitter a Daniele, la loro figlia, Echo si sentì offesa, interpretando questa proposta come una sottovalutazione del suo valore all'interno della comunità eroica. Questo rifiuto segnò il suo ritorno al ruolo di giustiziera solitaria, determinata a dimostrare la propria importanza in modo indipendente. Il suo cammino si intrecciò con quello di Mark Spector, noto come Moon Knight. Tra i due, sorse una sorta di legame riluttante, un'intesa sentimentale che fiorì nonostante le riserve reciproche. Unendosi per sconfiggere il Kingpin della costa occidentale, Echo e Moon Knight si trovarono di fronte a un nemico più pericoloso di quanto avessero mai immaginato, il Conte Nefaria. In un tragico momento di svolta, Echo venne assassinata brutalmente dallo spietato supercriminale. La sua morte gettò un'ombra di dolore su tutti coloro che avevano conosciuto la sua determinazione e la sua forza. Il suo sacrificio non passò inosservato, poiché l'eroina aveva sempre combattuto per la giustizia e il bene, anche se questo le costò la vita. La caduta di Echo è stata un colpo devastante per la comunità supereroistica, un ricordo tangibile delle sfide e dei pericoli che accompagnano la lotta contro il male. La sua storia rimarrà un testamento di coraggio, determinazione e sacrificio, inciso nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata come una vera eroina.